Ciao, sono Alessia e faccio parte dell'assistenza clienti per Ferrovie del Sud-Est. È bellissimo. Trovo questo treno molto comodo, finalmente è un servizio adeguato a tutti i pendolari. Sicuramente è confortevole, anche il design interno che è esterno è migliore rispetto al precedente. È la prima volta che prendo questo treno, anche perché ho saputo che oggi è l'inaugurazione. La prima impressione che ho avuto quando sono entrata in questo treno è stata la pulizia, l'ordine e il comfort. Ho visto che questo treno è abbastanza pulito, abbastanza moderno. Mi è sembrato un'astronave appena sono salito. È stupendo, di ultima generazione. È anche comodissimo, per arrivare dalla mia ragazza sarà bellissimo viaggiare. Non vivendo più qui, cioè vivendo comunque in una città molto più grande, un treno così non mi era mai capitato di vederlo fino ad oggi. Sono contento perché questo è un bel segnale per tutti, veramente. Oggi inauguriamo il nostro primo viaggio con il treno elettrico, che porterà con sé numerosi vantaggi. Primo fra tutti a livello ambientale, ma anche come comfort abbiamo sedili più comodi e bagni più spaziosi. Come accessibilità vi è una pedana elettrica pronta a permettere l'accessibilità ai diversamente abili. Vi aspettiamo in stazione.